A Silvi Turri in carrozzina per sindaco e consiglieri comunali, per capire e toccare con mano le criticità presenti nel comune costiero, l'obiettivo della passeggiata organizzata dal presidente dell'Associazione Carrozzine Determinata è stato quello di far comprendere alle istituzioni locali le mille difficoltà che si trova ad affrontare ogni giorno un disabile, per il quale troppo spesso la città è preclusa. Marciapiedi e scivoli inesistenti, rampe pericolose e fuori norma, negozi con gradini, bar senza bagni per disabili ed altre gravissime problematiche. Devo comunque ringraziare la sensibilità di tutto il comune di Silvi, compreso il sindaco, siamo per una campagna di sensibilizzazione per far capire effettivamente, basta vedere lo scempio, di come un ambiente possa creare disabilità e addirittura pericolo. Qui per esempio ci troviamo di fronte a un'opera pubblica costata 800.000 euro, inaugurata a giugno e siamo di fronte veramente a uno scempio pubblico. Siamo molto contenti che la Giunta abbia accettato questa esperienza empatica, però Silvi deve cambiare passo. Da 32 anni non c'è il piano per eliminazione delle barriere architettoniche, è necessario rivedere il diritto alla mobilità come il piano spiaggia, così come le licenze commerciali, hanno tutto il gradino, è impossibile entrare in un negozio. Quindi è necessario, basti pensare che vive di mare questa città e non c'è una spiaggia pubblica accessibile. Dobbiamo assolutamente cambiare passo, noi siamo contenti perché da oggi, grazie a carrozzine determinate, c'è una nuova, dobbiamo creare, anzi una nuova mentalità, una nuova cultura che consentirà sicuramente una vera inclusione. Ma per rendersi conto delle difficoltà che si vivono quotidianamente quando si è qui su, bisogna provare, provare direttamente. Stiamo rendendoci conto, tutta l'amministrazione, come sia difficile superare delle barriere architettoniche che nel tempo non sono state adeguate e messe a norma. L'impegno dell'amministrazione è quello di lavorare in simbiosi con le associazioni carrozzine per naturalmente dare una diversa impronta a questa città e sicuramente migliorarla. Si è considerato il suo vietone molto difficile girare per Silvi con la carrozzina? Diciamo che è molto dura, il lavoro fisico di braccia per spostare la carrozzina è impegnativo, dunque mi rendo conto di quante difficoltà si vivono quotidianamente qui.